Cari amiche e cari amici, per il libro della domenica oggi vi propongo la lettura o la rilettura, la scoperta o la riscoperta di un classico della saggistica sull'America Latina. Vi propongo il saggio senza tempo di Edoardo Galeano, Le vene aperte dell'America Latina. Si tratta di un piccolo gioiello della narrativa saggistica, sociologica di Galeano con uno stile rigoroso ma al contempo poetico, come solo i grandi scrittori dell'America Latina sanno essere. E la ricostruzione di 500 anni di saccheggio dell'America Latina. E la ricostruzione di un saccheggio devastante che ha portato un continente ricchissimo di materie prime ad essere sfruttato e ad essere teatro di colonialismo, imperialismo, di guerre coloniali, di sfruttamento, di schiavitù, di saccheggio, di razzia, di ingerenze europee, nordamericane, teatro di rivoluzioni ma anche di rivoluzioni tradite, teatro di dittature, di sogni democratici precipitati poi nel sangue, nella violenza, di svolte dittatoriali. Il libro di Edoardo Galeano esce nel 1971 in piena dunque svolta autoritaria in America Latina. Sono gli anni delle dittature, delle dittature in Argentina, sono gli anni poi in cui ci sarà la dittatura di Pinochet in Cile, e sono anni in cui il Brasile, il Paraguay, anni prima anche l'Argentina, hanno conosciuto svolte appunto autoritarie, militari, nazionalistiche, strizzanti l'occhio a modelli del fascismo europeo spagnolo della prima metà del Novecento, del modello spagnolo ancora degli anni Cinquanta e Sessanta e Novecento, vediamoci che il fascismo nella versione franchista cade appunto verso la metà degli anni Settanta in Spagna. Il libro di Galeano è un libro che è un atto d'amore, un libro pieno di speranza, ma anche un libro pieno di amarezza e di dolore nei confronti del continente latinoamericano. Edoardo Galeano è un grande scrittore appunto uruguagio, di origini uruguayane, e Edoardo Galeano ci racconta le vene aperte dell'America Latina, cioè le ferite che non sono mai neanche diventate cicatrici, le vene aperte da parte dei colonialisti, degli spagnoli e dei portoghesi nel Cinquecento, momento in cui inizia il grande saccheggio perché dall'epopea dell'oro inizia già con Colombo, perché Colombo è comunque un navigatore mosso anche al desiderio di trovare oro, di portare oro per la corona spagnola. Dunque dall'epopea dei grandi viaggiatori come Colombo, Merigo Vespucci, Cabral, dall'epopea dei grandi viaggiatori all'epopea dei conquistadores, Cortes, Pisarro, su tutti, il continente dell'America Latina, del Centro America e dell'America Latina conosce proprio il saccheggio, c'è il saccheggio dell'oro e dell'argento, c'è il massacro di oltre 70 milioni di indigeni nell'arco di quasi 200 anni, ci sono le guerre ecologiche, cioè il mutamento ecologico che portano gli europei con animali nuovi, c'è la guerra batteriologica che portano avanti gli europei attraverso le malattie, le malattie appunto che gli europei hanno in parte debellato, ma che gli indigeni, gli indios non sanno chiaramente affrontare, non conoscono, e dunque non hanno gli anticorpi per poter sopravvivere a una serie di malattie. L'epopea della schiavitù, dunque della deportazione poi di afroamericani dell'Africa occidentale, dalle colonie appunto portoghese e spagnoli verso l'America Latina per lavorare, per sopperire alla mancanza di mano d'opera in seguito ai massacri operati appunto dai conquistadores, minieri a cielo aperto, piantagioni di cotone, di zucchero, legname, il vero saccheggio delle materie prime su tutto l'oro e l'argento che vanno a ingrossare chiaramente le finanze della Spagna, dell'Inghilterra, della Francia, poi la Spagna lo utilizzava in gran parte per guerra, per guerra di religione, però voglia di conquistare con il periodo di Carlo V e di Filippo II l'Europa, di renderla asburgica e cattolica contro i protestanti e contro la Francia e l'Inghilterra, e invece la Francia e l'Inghilterra lo utilizzeranno oltre che per le guerre, direi in modo particolare l'Inghilterra, anche e soprattutto per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione infrastrutturale, per la svolta poi economica mercantile, per l'inizio anche del capitalismo, quello appunto di matrice francese, ma soprattutto di matrice appunto poi anglicana, puritana in Inghilterra, in Olanda, poi molti puritani scapperanno ovviamente dall'Inghilterra, dell'Olanda, andranno a fondare nuove colonie, il Nord America, anche mossi dall'ospedale di avventura, dell'impernitorialità, dei mercanti, della voglia di curare dinaro, ricchezze. La globalizzazione economica, i traffici commerciali, iniziano proprio con la conquista dell'America, conquista dell'America, che mi dicevo galliano, racconta un saccheggio, porto avanti con le armi, con le spade, con la croce, la grande alleata dei conquistadores fu la Chiesa, la grande alleata del potere politico, monarchico, portoghese, spagnolo, ma anche inglese e francese fu comunque la Chiesa, molto poi con Francia, Spagna e Portogallo, la Chiesa cattolica romana aveva un'alleanza fortissima, e dunque inizia la conversione, la conversione forzata, inizia appunto il battesimo forzato, iniziano i massacchi, compiuti anche in nome di Dio, oltre che in nome della corona. Edoardo Galeano ci racconta dunque 500 anni di saccheggio, da quello di Carlo V, di Filippo II, da quello pronto avanti da Luigi XIV, e dunque la spada, la croce, lo zucchero, gli schiavi, le encomienda dunque, il saccheggio del territorio, gli encomendatori che si arricchiscono, fanno lavorare fino a morire, gli indigeni per portare via appunto ogni forma di ricchezza, di produzione, vi dicevo appunto lo zucchero, e poi il cacao, e poi ovviamente i pomodori, e poi le patate, e poi oltre loro l'argento ovviamente il legname, vengono cancellati secoli e secoli, sono millenni di cultura, di architettura, perché in molti casi gli spagnoli distruggeranno anche, basta pensare a Pizarro, distruggeranno molte dell'architettura, dei templi, delle strade, dei monumenti, delle varie civiltà merinde, degli aztechi, degli inca, dei maya, e poi si passa al saccheggio che viene anche post, post guerra dei libertadores, la liberazione, l'indipendenza, Simone Bolivar, José Martín, dunque le grandi rivoluzioni, le grandi rivoluzioni di indipendenza, portavanti da Creoli, il nome di quella ventata di libertà, uguaglianza, diritti umani, costituzione, è nata con la rivoluzione francese, con la rivoluzione americana, le rivolte ad Haiti, degli schiavi, grandi impulsi rivoluzionari, l'indipendenza, poi anche il sogno di un'America latino unita, politicamente unita, il sogno della Panamerica, che però non è voluta dagli inglesi, dagli americani, e dunque inizia il nuovo saccheggio, il saccheggio che avviene con la sterlina, che avviene con il dollaro, che avviene con il protezionismo, perché gli americani proteggono i loro prodotti dalla concorrenza dei prodotti dell'America latina, ma nel frattempo saccheggiano e portano via le materie prime, i prodotti locali, dunque un protezionismo unilaterale, i paesi vengono trasformati in monoculture, dunque dove prima c'era una diversità anche agricola, una diversità di produzione agroalimentare, si impianta, si costruisce una monocultura finalizzata agli scambi commerciali con l'Inghilterra, con la Francia e con gli Stati Uniti, e dunque le ingerenze economiche, le ingerenze politiche, l'appoggio poi dati a governatori locali, a partiti politici locali, nel tentativo di mantenere sempre un dominio politico, se non diretto, indiretto, e dunque l'appoggio alla dittatura a fine 800, prima del 900, il tentativo di distruggere le ambizioni rivoluzionari, come quelle messicane, che invece riusciranno a prevalere con la epopea incredibile delle rivoluzioni messicane, di Pancho Villa, di Zapata, rivoluzione che poi sarà, negli anni poi 30-40, progressivamente tradita, con il paletto del rivoluzionario istituzionalizzato, che non manterrà grandi promesse della rivoluzione, le grandi promesse, gli anneliti di libertà, di giustizia sociale, di uguaglianza, di istituzione della terra, tutta una serie di grandi conquiste ottenute negli anni 10, negli anni 20, che poi progressivamente verranno anche rimesse in discussione, anche qui con l'appoggio spesso di moneta assonante americana o inglese americana in questo caso, perché gli americani soppienteranno gli spagnoli nel dominio dell'America Latina, soppienteranno anche gli inglesi, soppienteranno gli spagnoli anche nell'America centrale, basta pensare alle guerre perse poi da Napolano III nei confronti degli americani, o alle guerre perse dagli spagnoli nei confronti appunto degli americani, degli Stati Uniti. E con la dottrina Monroe certamente non si occuparanno più dell'Europa, le mani anni 20 e l'Ottocento, ma si occupano di America Latina, e dunque non c'è la mano invisibile del mercato, quella in parte poi ideologizzata di Adam Smith, perché Smith non sostiene che di fatto ci sia questa mano invisibile, la utilizza come immagine per dire che il mercato senza ingerenza trova degli equilibri, ma in realtà questo mercato che trova degli equilibri ha bisogno comunque di regole che vengano rispetto ai soggetti economici, se invece non ci sono delle ben precise regole politiche, i soggetti economici cominciano a barare, a fare cartello, a usare il protezionismo, ad avere ingerenze politico-militari, finanziarie o monetarie, svalutazione della moneta per poter appunto esportare, oppure compra vendita di monete per far crollare un paese, farlo non essere più indipendente dal punto di vista monetario, dunque tutta una serie di tecniche monetarie, finanziarie o di cartello, dunque di monopolio o di ingerenza politica in ambito economico che di fatto fanno saltare le virtù che Adam Smith pensava potessero accompagnare un mercato regolamentato in cui la competizione fosse a favore del consumatore, del produttore, del consumatore e dei cittadini, ma su questo magari tornerò in un'altra video-lezione. Questo libro ve lo consiglio perché vi racconta 500 anni di imperialismo, di colonialismo, vi racconta la struttura del saccheggio da quello coloniale appunto della Spagna e del Portogallo con l'appoggio della Chiesa a quello culturale a quello monetario del dollaro e della sterlina a quello poi delle dittature dell'America Latina a quello appunto dei tratti commerciali che vengono appunto fatti e vengono tendenzialmente calati dall'alto sulle teste dei contadini, dei campesinos, la capacità di creare appunto guerra tra poveri in America Latina, di creare crollo dei prezzi delle materie prime, da poterle comprare più facilmente per quanto appunto ciò prima lo zucchero ad esempio o il legnano per quanto guarda la frutta e ci racconta l'eroluzione, l'eroluzione cubana, cioè quella messicana, ci racconta le dittature, ci racconta i sogni, le rivoluzioni tradite, ci racconta il sacrificio, ci racconta il massacro delle popolazioni indigene, ci racconta la speranza sempre di un mondo migliore, di un mondo più giusto, ci racconta la speranza che queste vene non siano più aperte ma che le risorse prime possano rimanere in America Latina per poter dare vita effettivamente a un rinascimento all'America Latina, il libro del 71 poi viene ereditato ad esempio in Italia nel 98 in un'edizione appunto che è del 2004 della Sperling & Kufler Editori e questo libro anche se del 71 vi racconta il colonialismo, lo sfruttamento, il saccheggio dell'America Latina fino appunto agli anni 70 fino agli anni 60 e dunque un viaggio appassionato scritto molto bene dicevo una prosa rigorosa ma anche poetica con immagini con immagini molto forti quasi una storia d'amore nei confronti dell'America Latina tra l'autore e l'America Latina c'è molta passione e vi consiglio anche la bellissima introduzione di Isabella Allende che racconta che ha preso in mano questo libro per la prima volta quando era quando era ragazza molti anni fa dice Isabella Allende quando ero giovane e credevo ancora che si potesse forgiare il mondo sulle nostre migliori intenzioni e speranze qualcuno mi regalò un libro con la copertina gialla che divorai in due giorni con tanta emozione da doverlo rileggere un altro paio di volte per assorbirne tutti i significati le vene aperte dell'America Latina di Edoardo Galeano il libro di Edoardo Galeano è veramente un libro che vi accompagna nell'America Latina nel saccheggio nella speranza di ciò dell'America Latina e ci fa capire molto di quel di quel continente è un libro che vi consiglio da leggere proprio in questo periodo vi consiglio di leggere in questo momento in cui la situazione internazionale è particolarmente complessa liberismo protezionismo materie prime dazzi doganali stanno tornando di modo o meglio sono sempre il tema economico per eccellenza una discussione permanente perché riguarda un sistema economico del capitalismo globale dei scambi commerciali globali di un sistema che ormai è mondo e ci racconta una parte di questo sistema mondo nell'America Latina e poi vi consiglio di leggere per capire anche meglio cosa è stato l'Occidente l'Europa questo è l'impatto culturale verso questi popoli la cancellazione dello straviglio ma non per sviluppare dei sensi di colpa che secondo me comunque un po' noi europei o nordamericani dovremmo avere rispetto alle popolazioni indigene dell'America Latina o quelle africane o asiatiche che abbiamo conquistato e spesso sterminato e abbiamo addirittura assoggettato culturalmente annientando aspetti della loro cultura non tanto per avere un senso di colpa ma per capire capire cosa è stato il passato per capire cosa è avvenuto in questi continenti qual è stato il modo di rapportarsi dell'economia mondo dell'occidentale l'occidentale ha conquistato una gran parte del pianeta come un supermercato in cui andare a prendere ciò che gli serviva ma senza pagare utilizzando la guerra utilizzando la leva della finanza la leva della moneta utilizzando i cannoni utilizzando le spade utilizzando la croce le vene aperte dell'America Latina vi darà anche quella giusta rabbia per continuare a documentarvi a leggere a capire un po' le cose di questo mondo le vene aperte dell'America Latina di Edoardo Galeano buona lettura a domenica prossima con un altro libro della domenica grazie a tutti